Giovani medici con un passato sui campi di calcio, allenati dal medico sociale della Salernitana Italo Leo, che scenderà comunque in campo. Tutti pronti a sfidare le rappresentative di altri ordini professionali. C'è già un derby domenica mattina al Volpe contro Napoli, ma soprattutto pronti a giocare a calcio per finalità benefiche attraverso incontri e eventi, per parlare di prevenzione e sana alimentazione, nel rispetto pure di quelle che erano le regole della scuola medica salernitana. Noi con tantissimi colleghi della mia età abbiamo partecipato a dei tornei interfacoltà e questa cosa poi ci è piaciuta così tanto che non appena conclusi gli studi abbiamo pensato di coinvolgere sicuramente altri colleghi anche più grandi. E così leggendo anche su internet abbiamo visto che esiste proprio un'associazione nazionale medici calcio e abbiamo pensato che anche a Salerno poteva esistere, nascere una nuova associazione, una nuova realtà. Perché ci sono tantissimi colleghi che hanno giocato, che organizzano partite e quindi abbiamo pensato che un punto di riferimento grazie al potenio dell'ordine poteva esistere. E così l'abbiamo creato e ci iscriveremo proprio a una competizione nazionale che sarà sia una Coppa Italia che un campionato. Il primo impegno sarà proprio domenica contro il Napoli. Direnterà poi questa rappresentativa un veicolo anche per promuovere iniziative con finalità benefiche, considerando anche la vostra professione? Esattamente, quello è il principio fondamentale. Noi partiamo dall'idea di giocare a calcio, ma è chiaro che il nostro lavoro principale è quello di fare i medici. Quindi abbiamo stretto delle collaborazioni già con tantissimi anche sindaci rappresentanti del territorio dove noi pensiamo di fare per esempio giornate in cui ci saranno screening gratuiti per la popolazione e poi per esempio la partita con la squadra di calcio del paese del Cilento, del Vallo di Danio, della Costiera in modo che l'ordine sia presente e sia vicino anche al territorio. Quindi questo è il nostro veicolo principale, il nostro principio base per cui decidiamo di fare questo percorso e per esempio anche la Salernitana, l'Empic Salerno, il calcio a 5, quindi l'Alma Salerno, saranno dei partner con cui creare magari degli eventi di beneficenza. La scuola medica salernitana rappresenta la pietra miliare della medicina. Questa squadra di calcio dovrà diventare il punto di partenza di un qualcosa di importante anche del mondo sportivo. Esattamente, il nome che abbiamo scelto riprende proprio quello che hai appena detto. La scuola medica salernitana è il punto di riferimento per i giovani, lo è per i colleghi, siamo più esperti e deve esserlo in tutti i campi. Infatti sport uguale salute, quindi i principi della vecchia scuola medica salernitana cerchiamo di applicarli anche in questo nuovo progetto che spero riuscirà a darci tante soddisfazioni. Grazie. 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 Grazie.